Geremias, io e Belen preoccupati per Cecilia, Ignazio è un ragazzino Geremias Rodriguez a Nuovo TV, largentino e la sorella Belen preoccupati per la storia tra Cecilia e Ignazio Mosè Geremias e Belen Rodriguez sono preoccupati per la sorella minore Cecilia a rivelarlo l'ex concorrente al Grande Fratello Vip Intervistato dal settimanale Nuovo TV, il ragazzo ha svelato che insieme con la conduttrice di Tusicue Vales condivide alcune perplessità riguardo questo rapporto nato davanti alle telecamere Soprattutto perché per seguire questa nuova passione la piccola Cequa ha chiuso un rapporto solido e consolidato con Francesco Monte, extronista di Uomini e Donne che era ormai parte integrante della famiglia sudamericana Geremias ha rimarcato ancora una volta all'indole immatura del figlio di Francesco Mosè, definendolo non troppo adatto a Cecilia Anche se è tutto da vedere, il reality è ben diverso dalla quotidianità e sarà quello il vero banco di prova per la nuova coppia dello shop biz italiano Grande Fratello Vip, i dubbi di Geremias su Cecilia Rodriguez e Ignazio Mosè Nell'ultima intervista rilasciata alla stampa, Geremias Rodriguez ha rivelato che non è stato facile vivere all'interno della casa di Cinecittà con la sorella che si avvicinava ad un altro uomo Un atteggiamento che il pubblico ha subito colto, in più di un'occasione il giovane si è mostrato geloso e infastidito dalla situazione Non sono abituato a conoscere il fidanzato di mia sorella mentre siamo rinchiusi in una casa In quel contesto sei costretto a vedere tutto e a stare a chiacchierare con lui, magari anche quando non lo vorresti ha spiegato il fratello di Belen A proposito di quest'ultima, cosa ne pensa la showgirl? Non ha condiviso determinati atteggiamenti Ha puntualizzato Geremias Che ha poi rincarato la dose, Cecilia si è lanciata troppo in fretta, sembrano già fidanzati In realtà lei non sa bene chi è lui Secondo me, Ignazio è un ragazzino L'incontro tra Francesco Monte e Geremias Rodriguez Dunque, Geremias ha più di qualche riserva nei confronti di Ignazio Moser E Belen sembra dello stesso pensiero Il ciclista riuscirà a far cambiare idea ai fratelli una volta uscito dalla casa del grande fratello? Intanto l'erdriguez si è incontrato nei giorni scorsi con Francesco Monte Nonostante la storia finita male con Cecilia, i due intendono restare amici Così come l'ex moglie di Stefano De Martino che, in questi giorni così difficili, ha dato tutto il suo supporto all'ormai ex cognato Iscriviti al nostro canale